Teresa, devi lavare qualcosa? Sì, i miei jeans e una gonna! E' Ken! Ehi ragazze, avete progetti per oggi? No, siamo libere! Dove andiamo? Al cinema! Vi passo a prendere tra un'ora! Cosa mi metto? Dammelo! Sta meglio a me! Neanche per sogno! Sei troppo grossa per questo! Oh, davvero? Migliorerò un po' il vestito di Barbie! Con una gomma! Trucchiamoci! Barbie, vuoi che ti spazzoli i capelli? Grazie, ma sto bene così! Non credo proprio! Cosa mi metto? Sono splendida! Che succede? Non riesco ad alzarmi! Cos'è? Gomma! Grrrr! Me la pagherai! I jeans preferiti di Teresa! Dove sono i miei jeans? Ahahahah! Ahahahah! Molto meglio! Forse sono qui! Sei stata tu? Cosa? Cosa? Non ti sento! Non ti perdonerò mai! Cosa stai facendo? Hai cominciato tu! Prendi questo! Sai una cosa? Io non vado al cinema! Vacci da sola! Nemmeno io sono dell'umore giusto! Teresa! Mi dispiace! Mi dispiace! Ti compro dei jeans nuovi domani! Mi dispiace! Non litighiamo più! Ehi ragazze! Siete pronte? Chi c'è con lui? Non l'ho mai vista! Mi chiamo Stacy! Questa è la mia ragazza! Vado a cambiarmi! Dove hai conosciuto Ken? Ci siamo conosciuti al parco! Teresa! Ti stiamo aspettando! Sono pronta! Andiamo!